Allora, io vorrei parlare da lettrice questa sera, non da giornalista, non da amica, da lettrice. Io sono un po' felice e un po' stupita. Sono felice perché ho trovato la mia Chiara in questo libro. Con la sua costante ricerca di un modo giusto, di arrivare al cuore delle cose, di confrontarsi con se stessa, con noi, di chiarire i sentimenti, di dare una voce alle emozioni. C'è il lavoro che lei fa da sempre, la prima di una vita sottile forse, da Clare Ricchi forse. E sono stupita per come ogni volta sappia cambiare pelle restando se stessa. Per cui un po' ci sfida a leggere cose diverse, cose nuove, a confrontarci con la sua scrittura. Ecco, questa riconoscibilissima che scriva per, se si può dire, per i grandi, per i bambini. Aveva fatto già un esperimento in qualcosa che era diverso, però era un po' un passaggio, un libro di transito per arrivare fino qua. Una delle volte che io sono stata in questa sala non presentavo Chiara, ero tra il pubblico, e lei ha fatto un incontro con i ragazzi di istituti tecnici e istituti professionali. Ragazzi abituati a leggere pochissimo per loro stessa ammissione, arrivati un po' così inconsapevoli, secondo me, di quello che venivano a fare. Cioè un po' smandruppati, un po' scazzati, un po' personaggi incredibili. E lei è arrivata con uno scatolone, dei bigliettini, in questo esperimento che avevano fatto lei e Maurizia Rebola, e se ne sono andati tutti piangendo, tutti in lacrime. Tutti che avevano trovato qualcosa dentro, avevano aperto un grumo, no? Srotolato qualcosa. Allora io, questa volta l'ho portata io una scatola, non ha bigliettini, non ha niente di commovente, dentro ha delle cose anche abbastanza kitsch. Però, siccome non possiamo raccontare tutto di questo libro, che in fondo è una grande avventura e piena anche di colpi di scena che dovrete scoprire voi, usiamo le cose che ci sono in questa scatola per raccontare qualcosa. Vuoi dire qualcosa prima o partiamo subito? Grazie, intanto Elena di essere qui con me. Questo per me è un appuntamento imperdibile. Grazie di darmi sempre così tanta fiducia che è ricambiata, perché veramente da quando è nata mia figlia è difficile accompagnare i personaggi dei miei libri, poi in giro per le città, ma questa è una tappa che per me non può mancare. Quindi io, Elena, sono una persona che nella vita già sono felice se incontro qualcuno disponibile a sorprendersi per le sorprese che io voglia di fare. C'è qualcuno che mi fa le sorprese e ti giuro che io non lo trovo, quindi non vedo l'ora. Aspetta di vedere che sorprese, non ti aspettare troppo. Partiamo così? Vai, vai, vai. No, vabbè. Poi me li posso portare a casa. Sì, puoi portarti tutta. Allora, partiamo di qua. Sono dei calzettoni di lana. Calzettoni, piedi da intrecciare e latte caldo. Allora, è vero, chi di voi aveva letto qualcosa? Il mio romanzo, sì. Qualcosa io da sempre, da quando sono diventata una lettrice e dunque una scrittrice, perché per me chi mi conosce lo sa, scrivere e leggere davvero è la stessa cosa. Io ho sempre coltivato l'ossessione di scrivere qualcosa con quell'esattezza lì del Piccolo Principe, di Alice nel Paese delle Meraviglie, no? I miei romanzi, chi li conosce lo sa, sono pieni di psicologismi, no? Mentre invece in questo tipo di storie, dove si porta in un mondo fantastico le stesse tematiche, tu sostituisci gli psicologismi a un'immagine. E dunque, secondo me, nella mia vita era venuto il momento di rifarlo. Se qualcosa è più il Piccolo Principe, qui siamo più in Alice nel Paese delle Meraviglie. E i simboli sono... Dunque, ci sono due mondi nei Fratelli Mezzaluda. Posso solo dire una cosa? Certo. Siamo lontanissimi dalla moda che c'è in questo momento, che tutti scrivono un libro per ragazzi, perché a un certo punto scrivo un libro per bambini. No. Cioè, è un libro sentito. Necessario. Necessario, lo vogliamo dire. Bisogna scrivere questo, assolutamente. E anzi, io quando ero incinta cinque anni fa, sei, cinque e mezzo, questa persona, una delle persone più geniali che conosco, mi disse attenzione, non voler subito avere fretta di portare tua figlia nel tuo universo linguistico. Stalla ad ascoltare. Sarà una straordinaria occasione, e umana, e vabbè, e artistica. E solo scrivendo questo libro ho capito cosa voleva dire. Cioè, affidati. Tant'è che il libro è uscito da due giorni, io ve lo giuro su di lei, proprio su mia figlia. Ieri, mentre ne parlavo alla fiera dell'editoria per ragazzi a Bologna, scoprivo delle cose che neanch'io sapevo mentre scrivo. Dicevo, ma certo che questo significa questo. Perché in questo libro, appunto, ci sono immagini molto forti, non spiegazioni. La spiegazione è consegnata al cuore di chi legge. Infatti sarebbe bello poi vederci dopo la lettura, perché ognuno credo che avrà la sua affezione a una parte di questa storia. Questa storia in cui ci sono due mondi. E si apre la scena su uno di questi due mondi, è Gabavil. Gaba è l'ormone della serenità, no? Che abbiamo dentro l'ormone dell'armonia. E si apre su questi due vecchietti, Amos e Irene, che dormono con questo piedi intrecciati ai piedi, calzettoni di lana, una tazza di latte caldo. Quello è l'amore a Gabavil. A Gabavil è tutto assolutamente rassicurante. E viene interrotta la loro quiete. Loro hanno un... c'è un'ombra sulla loro vita. Non hanno avuto un figlio, desideravano averlo. E a un certo punto però si sente un pianto e loro sono i mugnai di questo villaggio e trovano questa bambina e la adottano. Mentre hanno i calzettoni ai piedi, non si possono immaginare che stanno accogliendo una creatura che con i calzettoni non ha proprio niente a che fare. E' proprio anzi una persona abituata più alle nudità, cioè una persona di un altro mondo. Sai quando diciamo quella persona è di un altro pianeta? Ecco, in un certo senso Meddi viene proprio da un altro pianeta. Ma l'amore in questo mondo, in Gabavil, ha proprio a che fare con i calzettoni di lana, con qualcosa che scalda, che rassicura. C'è un mondo di cui poi adesso andremo a parlare che fa da controcanto a questo mondo che è il mondo sottopelle, dove invece pensate un po' gli innamorati corrono nudi con una rosa in mano. Quindi proprio due modalità di intendere l'amore completamente diverse in questi due mondi. Eccola qua. La rosa infatti, no? No, però non ha le spine che invece sarebbero fondamentali. Gli innamorati nell'altro mondo corrono nudi con una rosa in mano. Quindi quanto di più contrario rispetto all'immagine? Latte caldo, calzettoni. Anche le foglie di rosa sono importantissime e ve ne accorgerete leggendo il libro. Scrivono delle cose meravigliose sulle foglie di rosa i protagonisti di questo libro. Allora, tanti mondi. Questa è una piletta a tre dischi. Puoi fare tutti i mondi e i pianeti del cosmo. E poi la luna, puoi fare il suolo lunare. La proietti sul muro, non so, magari ci gioca vita. Questa me la posso portare a casa? Puoi portare di tutto. È vero. Sì. Allora, tanti mondi. Il mondo di Gabaville, il mondo oscuro che impareremo a conoscere e a visitare. Il mondo, il cosmo, la galassia in cui, questo c'è scritto sul risvolto di copertina, lo possiamo dire perché poi vita si arrabbia se diciamo troppo sul romanzo. Quindi navighiamo un po' a vista. In cui si è perso chi? Forse questo padre. Allora sì, più mondi. Più mondi, questa bambina che arriva a Gabaville scompiglia un po' tutto. Maddy, no, lei si riferiva al fatto che abbiamo fatto l'altro ieri, che sembra a me due anni fa, la presentazione a Roma al battesimo e c'era anche mia figlia sul palco, che nel momento in cui ho cominciato a parlare diceva basta però stai raccontando troppo. Basta. Ecco, in effetti, in effetti questo è un modo stupendo per condividere le atmosfere di questo romanzo senza svelare, perché in questo romanzo vedrete ci sono avventure per i ragazzi e simboli per noi. Più mondi, almeno due, la luna. La luna è la porta fra questi due mondi, non vi svelo come e perché, ma la luna, che apparentemente ha una certezza, in verità è l'elemento più ambiguo in questo romanzo. Io devo dire che chi conosce i miei romanzi lo sa, sono proprio una figlia molto più della luna che del sole. Mi fido più della luna che del sole e più vado avanti nella vita, Elena, più capisco che mi fido molto di più delle persone lunari che di quelle solari, che è stata una persona, poi una parola per un certo periodo abusata, come solare, no? La persona lunare, io più vado avanti, più scopro che c'è stato un momento della mia vita in cui ho detto che belle le persone salde, però c'è una grande differenza fra essere risolti e essere semplicemente strutturati. A Gabaville tutti sembrano risolti, cioè la persona strutturata è una persona che ha deciso di rimuovere delle cose e dire ok, vivo così, amo così, sono felice e sono triste così. La persona risolta inevitabilmente passa dal mondo sottopelle, che è il mondo qui più pericoloso. Ed è un mondo di insidie, ma un mondo dove io sempre di più sono convinta che sia necessario passare per arrivare davvero a una Gabaville che non sia finta. Di questo ne sono proprio convinta. E questi due mondi rappresentano un po' le insidie che io in questi miei 45 anni ho capito essere le insidie più pericolose per l'animo umano. Cioè, è da una parte la rimozione delle emozioni negative. A Gabaville si rimuove. Stiamo contenti, non ne parliamo, facciamo finta di niente. Mentre invece nel sottopelle si rimane troppo attaccati a quello che ci fa male. E infatti il grande nemico è l'oscuro, lo diceva Elena. E l'oscuro che cos'è? L'oscuro è una forza misteriosa che le persone mentre stanno elaborando le loro rabbie i loro lutti ti fa addormentare e la mattina dopo ti risvegli esattamente dove eri il giorno prima. Non ti permette di andare avanti rispetto alla tua ossessione, al tuo dolore. E quindi i miei protagonisti invece tentano realistichare con le loro avventure e con i loro simboli. Noi eravamo rimasti al fagottino. Sì. Al fagottino che era arrivato. Amore, sì. E io l'adoro. Una diversa. Maddi la matta che a un certo punto diventa Maddi la mamma. E questa immagine è questa... Hai detto tu. Questo è un posto di confidenze per me. Io non c'è cosa che tollero meno delle persone che quando io... Mia figlia ha cinque anni a novembre ne fa sei. Quando le persone mi incontravano i primi anni soprattutto ormai hanno smesso con lei e mi vedevano come ero o come mai... Dicevano ma chi l'avrebbe detto? Che tu dici ma almeno zitto. E torna al discorso della mia fiducia nelle persone nei cavalli pazzi. Cosa significa? Significa che io veramente io darei l'analisi obbligatoria con un bravo analista però perché ci sono anche tanti cani quindi insomma perché secondo me io comincio a capire attraverso l'ultimo romanzo che ho scritto il penultimo il grembo paterno qualcosa sull'essere figli sull'essere genitori è troppo presto ma credo che centri con il conoscersi. Maddy vedrete è una persona che nelle prime 40 pagine del romanzo è proprio un imprendibile è una persona diversa è un cavallo pazzo è una persona che poi a Gabbaville sono talmente educati che anche il soprannome non glielo danno vedrete quando leggerete non glielo danno con cattiveria Maddy la matta è Maddy la matta non se ne vogliono occupare e non si chiedono perché sia così non si chiedono le domande non si fanno lì no Maddy la matta è fatta così ogni tanto sparisce chissà dove va io a me le persone che non si domandano le cose io ti lo giuro non è possibile io ogni tanto alle persone dico ma tu ti sei mai chiesto è un mistero come un mistero io passo la vita poi a interrogarmi sulle persone che amo dunque non so se avete visto quel film finlandese bellissimo che è uscito l'anno scorso che dice la persona peggiore del mondo è su Netflix è su Netflix è un film di una dolcezza bellissima intelligentissimo e a un certo punto lei al fidanzato dice se voi uomini aveste le mestruazioni noi femmine staremmo sempre a parlarne cioè staremmo sempre a parlare di come vi sentite no è bellissimo quel film è di una di un'intelligenza proprio ci sono queste donne che dicono ma come mai gli uomini non si interrogano su come stiamo noi se noi passiamo la vita in questo incessante quesito comunque al di là di uomini e donne Meddi è una diversa Meddi è una diversa e tant'è che quando arriva incinta nessuno si domanda chi è il padre nessuno e siccome questi bambini nascono con questa luna spaccata a metà ecco i gemelli mezzaluna due personaggi meravigliosi diversi complementari una domanda una fa domande scomode l'altro ha la capacità di capire e sono assolutamente complici il patto con la loro mamma si rompe anche questo sta scritto qui quindi lo possiamo dire per una bugia una bugia che lei dice a loro non vi raccontiamo quale che però loro non le perdonano anche se è una bugia detta a fin di bene allora si si possono dire queste bugie a fin di bene regge questa scusa tu le dici a vita no allora visto che bisogna fare domande io scrivendo questo romanzo e questa appunto è una delle rivelazioni che mi ha fatto questo romanzo io sempre chi conosce i miei libri lo sa che non è che io sono una di quelle scrittrici che dice adesso vi spiego com'è la vita sempre da una domanda partono le mie storie no e poi mi aiutano i personaggi a capire qualcosa una delle domande che ossessiona tutti i miei romanzi è proprio ma quando è che l'infanzia finisce cioè quando è che si e credo che finalmente in questo romanzo mi venga incontro una risposta cioè io credo che cominci a finire l'infanzia che poi secondo me per certe persone dannate e fortunate non finisce mai quando ti accorgi che i tuoi genitori non sono più mamma e papà ma sono un uomo e una donna nel mondo che amano che lavorano che hanno che sono altro non sono solo i tuoi genitori e questa è una bugia è una fisiologica cioè possiamo fare di tutto ma è l'essere umano che si crea dice ma per esempio io vedo mia figlia che ha quel che si chiama l'attaccamento sicuro con me perché più sicuro di così noi viviamo in una quasi simbiosi ma vedo che l'ho visto durante un festival che curo approcita all'estate e l'ho visto l'altra sera al battesimo di questo romanzo quando mi vede su un palco ha il bisogno proprio di stare attaccata quasi a dire oh ma tu sei mia mamma no ricordami che sei mia mamma che non sei poi di tutti sei mia mamma lo sento in lei questo e questo è un discorso quindi c'è la bugia fisiologica che ci diciamo da soli che i nostri genitori che ce la diciamo da soli ce la facciamo perché poi tante bugie diciamoci la verità tante bugie sulle persone quando uno dice a un'altra persona tu mi hai deluso quello dice ma il film te lo sei fatto tu ma mica io te l'avevo da c'è te lo sei scritto sceneggiato hai fatto la regia non sempre l'altro mente cioè non sempre l'altro vuole ingannarci spesso sono proiezioni quindi da una parte i fratelli mezzaluna vedrete sono a tu per tu con questo dall'altra lei ha dovuto proteggerli da una verità incandescente non lo so io sono convinta noi siamo Elena la prima generazione psicanalizzata no cioè c'è i nostri genitori noi li abbiamo proprio denunciati perché non ci capivano non avevano gli strumenti noi ce l'abbiamo noi gliel'abbiamo abbiamo preteso da loro gli strumenti ci siamo fatti delle domande io una volta mio padre ho detto dico ma noi abbiamo un problema con la passionalità io e mio papà condividiamo questo lui dice però ti deve cioè io mi aspetto tanto dalle persone e quando non mi danno quella cosa e mi aspetto mi scaldo allora lui dice però basta dico però tu l'hai risolto a 65 anni dice ma io ti ho pagato un sacco di sedute d'analisi dice a me non me l'ha pagata nessuno quindi tu devi fare prima c'ha ragione cioè in un certo senso ha ragione loro sono stati denunciati da noi quindi secondo me noi con i nostri figli la nostra generazione ha un po' la responsabilità di trovare le parole per dirlo io ho letto solo un mese fa La vita bugiarda degli adulti di Elena Ferrante no? questo titolo cioè noi io credo che noi diventiamo un po' colpevoli con tutto quello che sappiamo che abbiamo letto che abbiamo scoperto come figli credo che un po' di verità ai nostri figli gliele dobbiamo perché io da bambina niente ho sofferto di più di quelle atmosfere cupe ma incomprensibili che nessuno mi dava gli strumenti per interpretarle ma che stava succedendo fra mia mamma e mio papà perché poi stiamo a tavola come se niente fosse ma che cos'è questa atmosfera senza trasformare il figlio del nostro psicanalista perché quello sarebbe un altro e quindi invece però qui in questo romanzo ci sono degli adulti che chiedono scusa poi certo certo ci chiedono scusa e poi soprattutto la bugia è stata detta perché era veramente incomprensibile quello che capitava dall'altra parte però loro decidono di fuggire di trovarla loro la verità o meglio all'inizio decidono di fuggire e basta e poi vengono presi in questa che è davvero una grande avventura e devono affrontare delle prove a un certo punto arrivano in questo mondo in cui si rendono conto presto che loro non conoscono nessuno ma gli altri conoscono loro e sono chiamati a superare delle prove sempre più dure sempre più ardue anche un po' paurose che li porteranno a raggiungere qualcosa incontrano dei personaggi meravigliosi più buono del gelato pistacchio e cioccolato c'è solo? no lo zucchero filato e questo come si fa? questo si mangia senza la bacchetta lo tiri fuori e lo mangi come se fosse rotolato sulla bacchetta le fate un applauso per favore Elena perché quando no vi prego ricordatevi di questo momento quando leggete il romanzo perché veramente dici ma come è possibile che abbia trovato sì anche questa non è una novità nei miei romanzi che le imprese emotive siano imprese di gruppo non è una novità anche della tua vita a un certo punto scusa volevo dire che sia un'impresa di gruppo cioè il credere nella famiglia alternativa arrivano vengono sbattuti nel mondo sottopelle questi gemelli che è proprio la metafora di cosa succede a noi quando abbiamo una delusione cioè quando stiamo male o anche quando stiamo troppo bene ma quando comunque perdiamo il controllo veniamo sbattuti nel sottopelle che è questo mondo vedrete che io l'ho proprio c'è proprio una geografia di questo mondo c'è il fiume Rosicone che è il fiume della rabbia la palude del tu non vali lì ci arriva chi va via da casa la strada si chiama via da casa grazie di averla ricordata perché ancora non l'avevo fatto e invece è importante che la strada proprio per arrivare si chiama via da casa quindi non è che importa dove è che vuoi andare brava che proprio vai via capito è quello infatti noi non chi capita in questo mondo non è che vuole andare da qualche parte vuole andare via da ma non capisce bene dove sta andando perché è uno di questi personaggi il loro Virgilio è Chimera che è un personaggio inchiodato nella sua mortificazione nella sua ingiustizia subita anche questo io credo che sia un tema oggi ai tempi dei io ho una cosa che dico sempre a mia figlia dico sempre ma ci credo profondamente da persona profondamente gelosa ma davvero davvero non invidiosa zero dico sempre meglio invidiata che invidiosa no e e e e oggi in questa invece società io mi dispiace essere bacchettona però è è inevitabilmente nel presentare questo romanzo vanno tirati fuori i social e quello che portano no la vita degli altri che ci sembra così solo perché degli altri e questo e e il fiume Rosicone un po' ci siamo un po' tutti no io di sicuro questo romanzo l'ho scritto perché sono un po' allarmata e vorrei ricordare a noi e alle persone che sono ancora in tempo di dire aspettate un attimo stiamo in contatto con le cose giuste quali sono le cose giuste e quelle vere per me in questo non ce n'è pensa che io è arrivato il momento nella mia vita anche se io mi sento sempre che ho 15 anni ma questo appunto è un problema mio io ho esordito a 19 anni oggi ne ho 46 quindi sono e Torino è la città del mio cuore questo lo sapete quanto l'amo perché a 20 anni sono andata qui a condurre con Luciano Rispoli parola mia avevo 20 anni 20 anni e avevo scritto i primi due romanzi e poi mi dovevo laureare a Bologna insomma vabbè io penso la sera della laurea l'ho passata all'hotel Victoria perché casa eh sì perché comunque con una macchina della RAI sono andata ma non ho potuto neanche festeggiare con i miei genitori perché c'era la puntata al giorno dopo alla RAI e detto questo non ho mai nascosto di aver avuto una adolescenza complicata no? nei miei romanzi oggi a 46 anni sento che è proprio arrivato il momento di restituire un po' di tutto quello che ho avuto fondamentalmente un dono dalla vita essere riuscita a fare per lavoro quello che più mi piaceva fare nella vita cioè raccontare storie quindi metto su questa accademia a scuola che è una a Roma che si chiama Crea Vita ecco questa è una cosa bellissima poi dici è stanca no? perché l'accademia i libri che più il festival però questa accademia era proprio un'idea per gli adolescenti dopo il lockdown per dire perfetto cosa mi ha salvato a me le passioni stavo male però mi è salvato quello che mi piaceva a me nella vita ero molto compromessa però mi piaceva leggere mi piaceva scrivere mi piacevano i ragazzi mi piaceva viaggiare avevi delle passioni avevi qualcosa dentro che alla fine hanno le emozioni le avevi beh sì oggi a me sembra allora dico fondiamo questa accademia per adolescenti di orientamento creativo quindi attraverso le arti quindi la scrittura con me c'è la musica c'è la maleducazione artistica e poi c'è il teatro cioè con queste arti ma non per diventare scrittore nel gratuito cioè attraverso le arti hai un contatto con te stesso e sei in condivisione adolescenti iscritti zero gente dell'età nostra cioè dai 25 ai 70 non sappiamo dove metterli e quindi io da una parte sono certa che questo romanzo verrà letto dalla parte di persone simili a me che l'ho scritto spero che arrivi pure un po' dove no? perché noi non a caso e c'è qualcosa quindi nell'aria di misterioso no? perché io pure vado nelle scuole a raccontarla all'accademia e tutti sono contenti e poi però dicono è come se l'esperienza durasse il tempo del social e invece in questo romanzo Chimera che arriva e fa da Virgilio proprio ricorda forse rivela ricorda al lettore ma rivela ai gemelli mezzaluna che per instaurare delle relazioni ci vuole tempo cioè che è importante quel tempo passato no? che che e che le imprese di gruppo non fanno se sono davvero di gruppo non tolgono forza all'identità ma anzi la rafforzano questo vabbè io in questo credo profondamente una cosa così dolce a Chimera ricorda invece il momento più brutto della sua vita lei è un po' l'emblema lei è un altro dei protagonisti che ci saranno lì che è un po' bruttino le ingiustizie subite ed è proprio questo che si coltiva lì il rancore nell'oscuro fa rimanere chi abita nel mondo sottosopra inchiodato alle sue tristezze al suo rancore alle ingiustizie subite alle brutture della vita però anche in questo mondo così complicato questi riescono a fare gruppo riescono a trovare l'uno nell'altro il bello e anche a far capire l'uno all'altro che non bisogna essere perfetti per accettarsi e per piacersi in particolare a uno dei personaggi che bruttino lo è forse per davvero e la sua mamma glielo fa capire a tutti i costi i due protagonisti sono arrivati lì ve lo ricorderete arrabbiatissimi con la madre pieni di rancore e di rabbia a un certo punto però in questo mondo che li mette insomma di fronte a delle prove dure anche a delle tristezze si ricordano anzi capiscono alcune cose una in particolare poi puoi anche prendere nostra mamma ci ha sempre fatto sentire belli e speciali per come eravamo non dimentichiamocelo forse vuol fare una cosa che adesso non vi dico perché se no la pizza di mamma non dimentichiamocela questo è un palloncino non lo gonfiamo però è fatto a forma di pizza la pizza è importantissima in questo libro la pizza la pizza il pane la farina il panificare che c'è? no che che vabbè che grazie sì ma come sono sempre importanti io credo che alla fine nella vita quello che è importante vinca a me piace pensarla così e loro sono proprio vedrete che chiunque ha attraversato una delusione d'amore o una crisi crisi no? con quel significato così importante che la parola porta chi non lo sa che in greco vuol dire scelta la crisi no? chiunque ha attraversato una crisi in una relazione fondamentale sa che c'è il momento della rabbia accecante e poi arriva la pizza cioè quelle cose che dici è però quella pizza come mi conosci quella cosa del tutto io guarda più vado avanti c'è una pagina di Proust stupenda dove dice io mi sono sempre fidato dei gesti involontari quanto è vero no? delle persone che amiamo quanto i gesti involontari sono sempre più importanti delle cose delle spiegazioni io credo che sia importante che le persone si rispettino tu quindi cosa fai in questo senso io le dichiarazioni non le ho mai amate chi conosce i miei romanzi lo sa che a costo di andare nell'antiretorica proprio non mi piace stare nella dichiarazione mi piace che i gesti dei miei personaggi rivelino qualcosa che loro hanno dentro e quindi in questa enorme elaborazione della loro delusione io proprio ho consegnato ai fratelli mezzaluna tutte le mie delusioni amorose cioè che quando è molto diverso le crisi con persone che sono le persone della tua vita poi sono un lavoro inevitabilmente ti riavvicini ancora di più perché quella crisi è una possibilità di conoscenza altre invece segnano una fine in questo caso la loro rabbia comincia a fare il braccio di ferro col fatto dice però quella pizza lei la fa sono bambini quindi però si appellano a una sensazione perché pensiamo a quando allontaniamo una persona che è la persona della nostra vita e poi ci manca e loro a un certo punto sono proprio arrabbiati ma è possibile che la persona che più ci manca è quella che più ci fa male e questo è il controsenso con cui proprio no io credo che proprio qualche giorno fa ho chiesto a mio padre sì perché stavo qui per trovare una periferia diciamo ma secondo te la persona della tua vita è la persona che ti ha rovinato la vita perché l'ha bloccata lì o quella che te l'ha arricchita perché grazie a lei lui dice tutte e due è vero e questo ci porta a un'altra cosa che Chiara trasmette e che forse per gli adulti che leggeranno il libro è un po' una ah sì è vero è così per i ragazzi invece sarà uno stimolo sempre in maniera non didascalica non insegnano ma a un certo punto ti porta a capire che il bello e il brutto il bello non è così bello il brutto non è così brutto il forte il debole il buono il cattivo ci sono una serie di antagonisti in questo libro che sono però tutti chiaro e scuro ognuno di loro ha del buono e ha del cattivo è importante questo imparare o far capire che bisogna sempre mettere in discussione l'idea che abbiamo degli altri no e questo è fondamentale e accettare come sono prenderne il buono io non sopporto quando dici ah ma tu avevi detto così cioè le persone sono a un certo punto i gemelli mezzaluna dicono in questo mondo capiscono che puoi essere felice mentre hai paura e loro che invece a Gabaville puoi scoprire perché il grande mistero di questo romanzo riguarda non solo il papà dei mezzaluna ma anche questo mondo Gabaville che è strettamente collegato in realtà col mondo sottopelle ma per un mistero e loro inevitabilmente dicono ma come mai lì c'è un'emozione che è quella lì qui invece e però questo è proprio io è il mondo in cui credo cioè che la persona proprio mentre ti fa rabbia ti fa pena ti fa compassione e e non si può trovare una soluzione bisogna accettare la complessità di questo sentimento e scegliere poi che cosa farne la complessità di questa emozione è complicato ma è complicato prima di tutto nei confronti di noi stessi se siamo in ascolto delle nostre di contraddizioni no e e e e questo per me per me la vita non è facilissima perché io proprio come essere umano nel mondo vedo quella cosa e dico ah è rossa poi dico però sembra pure un po' verde ma forse è blu ecco convivere con tutte queste cose nella testa c'è chi mi dice è però così si impazzisce però è pur vero che io credo che il mondo sia così e quindi che sia un mondo di stare nel mondo c'è un modo di stare nel mondo faticoso ma rispettoso della sua complessità però non è un libro complesso è un libro denso ma non complesso ci spiega un mondo complesso un mondo complesso ma in realtà il libro è facilissimo perché è come siamo noi ci sono dei disegni bellissimi stupendi lei pensa che ha 19 anni questa ragazza ecco allora tu già una volta hai lavorato con un illustratore tu hanno pettinato avevamo fatto con lui una meravigliosa presentazione con lui che disegnava in diretta che non c'è più certo adesso lavori con questa ragazza giovanissima perché l'hai scelta? ma guarda con la Salani che è veramente una straordinaria casa editrice con cui e devo dire che io chi mi conosce anche in questo caso lo sa sono sempre più portata a dare fiducia a chi non è riconosciuto dal mondo ma ha qualcosa veramente da dire e quindi proprio Maria Grazia Mazzitelli secondo me è proprio sulle tue corde perché sono dei disegni molto originali è bravissima ragazzi questa è un'artista li vedrete se avete già il libro in mano lo vedete quindi anziché scegliere un'artista paludata Maria Grazia ha detto ma vuoi farla diventare famosa tu e no attraverso e io credo sempre parte della mia fatica di questi ultimi 15 anni è stata che quando poi hai successo nella cosa che ti piace fare rischi di perdere questa passione no perché rischi che ottenuto il successo nella cosa che ti piaceva fare rischi di avere meno tempo per fare quella cosa è incredibile e quindi io spero che questa ragazza rimanga così perché veramente vedrete è parte del testo i disegni di questa persona e poi io vi invito a fare una cosa muta muta fra l'altro questa ragazza disegna cioè lei comunica così sì sì non pensavo che mi dicessi muta sta zitta non dire quello che stai per dire no questa ragazza è muta è incredibile che parla disegnando allora io vi invito ad andare nell'ultima pagina subito cioè fatelo subito e io sono veramente dispiaciutissima che questa sera non ho portato insieme a tutto il mio ambaradana anche una cassa per farle sentire dovevamo sentirle sì perché due sono bellissime ma secondo me se io lo faccio qua non si sente niente scusate qua mi hanno tolto la borsa allora c'è un cure code alla fine del libro se l'ho inquadrato oppure se avete spotify ci andate direttamente troverete la colonna sonora del libro che non è un semplice accompagnamento ma è un'altra parte di narrazione allora si vede si sente perfettamente che hanno fatto un lavoro congiunto no Pier Cortese e Chiara Gamberale ma lei lui aggiunge delle cose perché per esempio hai rancori spiega dei rancori che non sono quelli che hai dato tu racconta delle cose del libro come è arrivata questa lui nella mia accademia di creavità è l'insegnante di musica e allora mentre stavamo lui è un cantautore molto raffinato molto dolce e io ero in un impasse proprio del romanzo un giorno abbiamo passato un pomeriggio insieme e dicevo non capisco come ma proprio era una parte strutturale non capivo come far sì che si passasse da un mondo all'altro ci siamo messi a chiacchierare poi lui ha detto certo sarebbe bello aveva la chitarra poi io per me veramente per chi suona e canta ho un rispetto perché io proprio non lo so fare c'è un mondo che mi piace e quindi si è messo a a che cos'è questa è sotto pelle sotto pelle come qualcosa che c'è che non si vede ma si sente e che fa parte di te al confine con le parole che ho e tutte quelle che mi porto dentro e che trovare non so e questo è tutto suo nel senso queste canzoni tranne una Gabaville sono tutte da un pubblico più che adulto nel senso ti fanno proprio pensare alla tua vita e alle tue relazioni è così vero e poi il video è bellissimo perché a sua volta poi dopo il video ha messo a disposizione la sua infanzia per il video insomma no è stato questo un io veramente questo è anche un libro che inneggia a c'è un capitolo che si chiama non si capisce niente ma va bene così non ci si capisce niente ma va bene così forse come loro stasera che noi siamo qua il potere delle cose che non capiamo e la musica quindi a un certo punto arriva e io nelle cose che non capisco ho imparato a riporre fiducia mi piacerebbe sapere su che isola è nato questo libro ah no pensa e no pensa che sì è stato completato no però di fatto chissà che guarda lo sto scoprendo stasera qui chissà che io perché Elena si riferisce al fatto che io prima della mia vita prima di mia figlia andavo molti mesi l'anno in un'isola deserta a lavorare ma lo sapranno anche loro ormai io diciamo ho fatto proprio due eh da quando c'è lei il mio rifugio è Cetara che è un posto a due ore da Roma Cetara deve arrivare in treno fino a Salerno e poi venti minuti di macchina fino a Roma e forse io sono diventata una penisola da quando c'è lei non lo so la sto pensando in questo secondo perché infatti è stato scritto lì a Cetara un posto da cui è più facile tornare sì 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 bellissimo soprattutto fuori stagione poi devo dire che questo libro è stato cominciato in zona rossa te la ricordi la zona rossa? in zona rossa fuori stagione a Cetara poi nel momento in cui ci sono entrata mia figlia nonostante sia troppo piccola per questo tipo di narrazione però mi ha accompagnata molto ci sono tanti regali al nostro mondo in questo romanzo una sciocchezza piccole cose che quando leggerete capirete c'è un cane a un certo punto che passa e si chiama Vicienzo anziché Vincenzo e l'editor mi diceva te lo corrego Vincenzo no no lascia Vicienzo perché è un gioco fra me e lei che il nostro pupazzo si chiama Vicienzo perché mi ricordo in questo momento mi fu regalato dai ragazzi dell'università che facevano da pubblico a parola mia qui a Torino a Natale perché l'ospite era Vincenzo Salemme della puntata di Natale a parola mia e mi regalarono questo pupazzo e quindi chiamai Vicienzo capito? senti non hai scritto un romanzo per ragazzi o anche per ragazzi perché sei diventata mamma? no sono due cose diverse però lei è troppo piccola per questo tipo di narrazione lei ha raccontato la storia gliene hai letto dei pezzi che hai fatto? io quando ero a Cetara quella settimana mandavo a mia mamma e a mio papà delle pagine che loro un po' gliela leggessero io credo molto sinceramente io credo che un po' li sottovalutiamo questi bambini cioè io in prima elementare mi leggevo incompreso vabbè tu no no tutti noi no tutti noi tutti noi tutti noi Elena no no dai erano letture cioè erava no oggi ripensate pensate che qualche tempo fa adesso è uscita su una delle piattaforme le puntate di Lady Oscar allora ho detto dai vita guardiamocene la prima vabbè la seconda vabbè la terza a un certo punto ci sono i monarchici cioè c'è un bambino che chiede l'elemosina perché ha fame no e c'è la guardia del re lo uccide no guardate quella e io dico ma questo quindi io subito spengo dico vabbè dai cambiamo adesso non fa niente no pensa noi come eravamo abituali quindi da una parte però forse era troppo essere lasciati da soli di fronte io poi mi ricordo che con particolare orrore al di là della proprio non capivo questo discorso di Lady Oscar che dicevano la preferita del re dicevo ma come quello è sposato con la regina che vuol dire che era la preferita proprio mi e dentro già ti facevi domande sì no questo della preferita del re era proprio una cosa che non mi capacità ma se è sposato con la regina ma che vuol dire che questa è la preferita proprio ma questo me lo ricordo chiaramente in prima elementare non me ne facevo una ragione detto questo oggi a me non piace quel tipo di narrazione di cartone animato di libro che un po' li fa sce non mi piace non mi piace perché loro comunque e quindi in questo romanzo questo libro si prende carico di domande importanti sull'amore sulla separazione sul fatto che spesso le cose che amiamo di più fanno parte di un altro mondo le amiamo le amiamo così tanto perché sono in un altro mondo o nonostante siano in un altro mondo io ho provato appunto a raccontarlo in una maniera come dici tu facile cioè in una favola però le domande sono quelle scomode con cui io continuo a fare i conti hai scelto di presentarlo avete scelto di presentarlo con un evento in forma di spettacolo quanto è importante secondo te raccontare i libri spettacolarizzare i libri oppure a te piace e non è importante perché adesso lo fai spesso ti viene anche molto bene c'è da dire questo non sarebbe necessario secondo me nel senso che non sarebbe indispensabile non necessario perché il libro arriva lo stesso certo che l'emozione di un evento come quello che hai avuto a Roma lunedì aggiunge qualcosa che c'era l'abbiamo trasformato in uno spettacolo come anche qualcosa no allora io Elena questo intanto io di sicuro sono una persona allora ci sono due discorsi il primo io credo in una cultura legata alla gioia cioè io non sopporto quando vado nelle scuole e le professoresse mi dicono e diglielo che è giusto leggere a me ha salvato la vita leggere quindi più che mai negli ultimi vent'anni a me sembra che ci siano da una parte i buoni che leggono che sanno sono tristissimi e dall'altra quelli che vincono e sono felici e ignoranti e sbagliano i congiuntivi non mi piace questo cioè io tutto il mio percorso a costo di essere fortemente anticonformi cioè mi piace proprio portare la cultura della gioia cioè leggere è bello a me io quando a vita dico guarda che l'anno prossimo vai in prima elementare scrivere ti rende libera cioè pensa che è bello quando puoi leggere da sola la libertà legata a questi gesti quindi scusate questa parola libertà è importantissima Meddi è libera in questo libro non l'abbiamo detto abbiamo detto che è diversa è libera è un personaggio importantissimo per quel motivo scusami è libera di amare l'uomo che ama tant'è che diventa meno libera quando qua si mette in discussione la sua libertà poi vedrete perché cosa che scelta amorosa a un certo punto viene in mente di fare quindi un po' lo faccio proprio perché per comunicare questo entusiasmo e poi perché vabbè io chi ha letto qualcosa lo sa io ho un'energia di troppo che da qualche parte devo buttare fuori questo è il mio problema è così e mi dispiace molto Elena perché sto adorando questa presentazione perché mi dispiacciono sempre quando si parla di qualcosa per me così sacro io non ero una figlia di persone che amavano i libri e fin da piccola ho attribuito ai libri un potere e a chi scriveva i libri a chi proprio un potere divino quindi a me quelle presentazioni in cui il presentatore di fatto parla di se stesso attraverso il libro l'autore parla di se stesso attraverso c'è qualcosa che un po' che umidità dicevo nel mio penultimo romanzo quindi a me piace io credo fermamente che poi è quello che nel mio festival approcida nel festival che porta avanti lo sapete bene voi due che vedo due proprio partecipanti venite quest'anno sì dite sì perché fa teatro ah siete già cioè il fatto che secondo me chi racconta una storia chi l'ascolta e chi la interpreta è un po' la stessa persona cioè a me proprio questa cosa un po' tribale del sedersi attorno a un fuoco e raccontare una storia che poi chi se ne frega chi è Omero e chi sta ascoltando e poi diventa Omero perché scrive e tramanda quella voce che raccontava una storia ci credo quanti di voi lo regaleranno a un ragazzino o lo leggeranno mi prego tutti regalatelo qualcuno l'ha già letto? no quindi abbiamo fatto bene non dire niente vedi allora diremmo meno ancora sul finale ci sarà un colpo di scena su Gabaville tre sì tre almeno ma io adesso mi riferisco a uno allora questo è l'ultima l'ultimo pacchettino lo capirà solo lei è bruttissimo spero che troverai un posto dove metterlo spero troverai un posto dove metterlo la Caliberia non è benestamente in un senso no è la mole no in una bolla e Torino in una bolla vabbè Torino perché così le facciamo sentire che deve tornare sempre perché questa è casa sua più di quanto già lei non ce lo dica la bolla perché capirete non la rompere però la bolla non si può dire ma lo capirete alla fine ed è è fondamentale allora è meglio avere la sensazione di essere felice e poi scoprire che era una bolla o invece vivere proprio scomposi con la sensazione sempre che manca qualcosa e però è tutto vero quanto meno vedi tutto su che dici? un po' un po' si può fare un po' un po' metà e metà no la seconda la seconda sì la seconda sì la seconda e forse è un po' il finale di questo libro no? quello che quello che ci resta e quello che ci fa anche sentire bene alla fine alla fine alla fine sì non avete niente da chiedere vero? volete solo incontrarla? grazie 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 a tutti